La realtà che abbiamo trovato qui a Salerno è dinamica, interessante e propone dei positivi circoli virtuosi e dei ponti di collegamento tra le aziende e l'università insieme anche agli enti di formazione, essenziali per dare continuità anche alle imprese rispetto alla formazione che si acquisisce all'università e quindi abbiamo trovato quello che serve oggi. Avete messo a disposizione due borse di studio per laureandi e laureati? Esatto, sia nel campo dell'ingegneria gestionale che dell'economia aziendale perché sempre più la consulenza 4.0 impone un'adattabilità e anche la capacità di parlare più lingue, quella dell'azienda e quella dell'università e quindi è sempre più una consulenza manageriale, strategica e organizzativa quella richiesta a tutti i livelli, al di là di quella classica. The power of being understood è il nostro claim, cioè la capacità di sapere ascoltare il nostro cliente, di anticiparne i bisogni, di agevolarne l'attività e di farlo crescere dimensionalmente compatibilmente con le proprie capacità.